amici del vaso di pandora benvenuti ben ritrovati c'è ancora molto scetticismo intorno al mondo digitale e quindi abbiamo deciso di realizzare una puntata che ruota proprio attorno a questo tema prendiamo spunto da una notizia recente cassa depositi e prestiti ha appunto recentemente emesso delle obbligazioni dei bond su block chain emissione sottoscritta interamente da intesa san paolo lo scorso luglio questo è un tema estremamente importante una notizia del genere vale la pena affrontarla e quindi approfondire questo tema lo facciamo oggi assieme ad andrea bertocchi e angelo dipalo che sono imprenditori e professionisti del settore della block chain e del mondo digitale benvenuto andrea benvenuto andrea bertocchi ciao carlo grazie a tutti e benvenuto ad angelo dipalo ciao carlo grazie ciao allora andrea c'è molto scetticismo scetticismo dicevo attorno al mondo digitale perché in base alla tua esperienza che pure sei un ragazzo giovane non hai ancora compiuto sei ancora abbastanza lontano dal compiere i 30 anni mentre angelo è già di una generazione diversa quindi affronteremo il tema proprio con persone che rappresentano due generazioni diverse tra di loro andrea perché c'è questo scetticismo in base alla tua esperienza guarda carlo e detto bene nel senso io sono ancora un ragazzo un ragazzo giovane ma nonostante la mia giovane età ho alle spalle diversi anni in questa tempo con questa tematica in questo mondo del digitale in particolare di quello delle criptovalute e della block chain e come giustamente tu hai sottolineato c'è ancora tantissimo scetticismo attorno attorno a questo mondo perché diciamo che la motivazione principale è che questo mondo viene sempre visto con come qualcosa di lontano dalla nostra realtà è un qualcosa che ci sembra poco pratico poco concreto moltissime persone si domandano ok qual è il legame effettivo fra il mondo della finanza tradizionale e il mondo delle criptovalute della block chain bene per rispondere a questa domanda mi riallaccio alla notizia appunto che ha anticipato delle missioni di bond digitali per la primissima volta uno strumento finanziario in questo caso un'obbligazione è stata interamente messa su block chain emissione è effettuata ad opera di cassa depositi e prestiti e l'operazione sta interamente sottoscritta da un istituto bancario in questo caso parliamo di intesa san paolo quindi non è il primo esempio di applicazione pratica del mondo digitale al mondo della finanza tradizionale però in questo caso è molto importante l'esposizione in primo piano da parte di un istituto bancario tra l'altro non una banca qualsiasi parliamo di una delle banche più importanti sul panorama italiano come quella appunto di intesa san paolo ed è stato autorizzato dalla consob questa operazione anche corretto esatto autorizzato dalla consob senti angelo tu ovviamente hai esperienza ormai di lungo corso no e abbiamo parlato di banche in questo caso ecco è cambiata la tua visione della banca rispetto alle banche da quando eri ragazzo agli inizi della tua della tua attività professionale ad oggi sì certo in passato le banche erano visti come dei pilastri no finanziari quindi il bancario era una figura di rilievo quindi in molti arrivano a quella posizione mia nonna mi diceva cavolo va in banca perché sono 17 18 mensilità premi eccetera no quindi era un lavoro molto al mico e quando si entrava in banca ci si vestiva bene era quasi una cerimonia c'era una sorta di differenza nell'istituto bancario appunto e c'era anche però una differente mentalità del risparmio cioè facevano più mi metto anch'io in mezzo perché ho passato anch'io i 50 anni le formichine quindi sapevamo il valore dei soldi sapevamo la fatica il sudore che abbiamo per guadagnarli non questi soldi quindi e pensavamo appunto di preservarli per un futuro comunque sereno un dato anche interessante molto interessante che durante la pandemia il risparmio delle famiglie italiane è aumentato del 94 miliardi tale noi sappiamo che siamo uno dei diciamo risparmiatori forse il miglior risparmiatore d'europa quindi gli italiani sto dicendo il popolo italiano più 94 miliardi è un dato significativo negli anni appunto della pandemia c'è anche poi da dire che un altro aspetto è cambiato molto perché ai tempi c'erano gli sportelli no ed il bancario che ti assistiva l'assistenza appunto che avevi era alla cassa quindi non che adesso non ce ne siano più ma si utilizzano molto di meno cioè ci sono ormai le app mobili ci sono i servizi online c'è proprio stato un cambiamento a livello proprio generazionale insomma negli ultimi nell'ultimo decennio si riguarda angelo sono pienamente d'accordo nel senso andrea tra l'altro ecco tu no che sei una proprio nuova generazione no quindi diciamo possiamo dirlo insomma c'è anche l'aspetto positivo non hai memoria storica no tu quante volte va in banca mediamente da carlo io penso di andare in banca forse una volta all'anno sicuramente non lo faccio con giacca e cravatta anzi magari mi presento in maglietta e jeans stracciati come va di moda un po' tra noi giovani al giorno d'oggi quindi sicuramente questo ha influenzato molto il cambiamento di visione da parte di noi giovani circa nei confronti della banca vista proprio come luogo fisico se io non devo andare in banca perché posso fare tutto online dato che il conto corrente posso aprire online i bonifici posso farli online richiedono un finanziamento online ovviamente cambia la visione che io posso avere nei confronti della banca non c'è più questa sorta di di riverenza o anche quasi di paura che potevano avere io mi ricordo i miei nonni quando mi raccontavano giustamente ha detto angelo era un po una giornata importante quella quella di quando mi recavo in banca mi vestivo bene avevo un po di timore anche ad andare in banca oggi invece questa visione totalmente cambiata certo e angelo tu come vedi come come che considerazioni fai su quello che senti dire adesso da andrea ma è vero penso concordo cioè nel senso l'utilizzo appunto dei giovani della banca sempre c'è la frequenza è diminuita tantissimo si appoggiano è tutto col telefonino è tutto con digitale no cioè nel senso ma non solo la banca proprio il nostro nostra nostra vita ormai è stata inglobata appunto a questo digitale faccio un esempio che non c'entra niente però dico guarda solo le famiglie quando vanno fuori anche al ristorante con i figli cosa mi danno in mano per star tranquilli mi danno in mano il tablet o il telefonino cominciano a guardarsi i film no cioè nel senso è proprio tutto digitale quindi quello che dice andrea è verissimo cioè sicuramente prima c'era una cultura anche diversa della banca oltre che appunto la riverenza si tendeva anche anche a livello di investimenti e qua torniamo nel tema principale si investiva molto di più in banca cioè in banca si aveva una scelta di prodotti come i mutui prestiti le obbligazioni di stato che sono i bot e i btp insomma che conosciamo tutti le azioni e le fondi comuni di investimento cioè anche cioè a medio lungo termine 3 5 10 20 anni e poi c'era la posta con il libretto di risparmio postale che non ha mai sentito parlare del libretto di risparmio postale con i buoni fruttiferi e le assicurazioni erano la terza istituzione quindi banche poste assicurazioni assicurazioni con le polizze vita salute infortuni e anche poi sono diventati con i premi unici dei prodotti proprio completamente di investimento e poi piani anche pensionistici integrativi quindi questi erano i tre diciamo pilastri diciamo oltre la banca anche la posta e le assicurazioni che tendevano diciamo a inglobare tutta o il novanta e passa per tutto gli investimenti globali insomma degli italiani quindi cosa è successo poi è successo che è arrivato il 2008 quindi la grande recessione anche stata una crisi economica importante globale partita dalla bolla immobiliare negli stati uniti e poi la conseguenza che c'è stata crisi del sistema bancario collasso dei mercati e qua inizia un attimo la sfiducia nelle istituzioni ma si continua a divertire negli stessi prodotti perché non c'era un'alternativa cioè non avevamo un'alternativa a questi prodotti ecco angelo scusami se ti interrompo un attimo perché volevo fare una considerazione anche circa un altro cambiamento che c'è stato tra la tua generazione la mia nel senso che la tua generazione è come dicevi giustamente prima è sempre stata abituata in un'ottica del risparmio mentre noi invece al giorno d'oggi viviamo in un mondo fortemente influenzato dal consumismo che deriva dal mondo appunto statunitense che ci porta a volere un po' avere a disposizione tutto quindi tutti vogliamo tutto e la cosa preoccupante è che ci viene fatto credere andrei con i tuoi rispetto i tuoi coetani questa questa cosa e io lo vedo facciamo ancora parte angelo e io maggior ragione perché qualche anno ancora in più a mia volta di di angelo voglio dire facciamo parte di una generazione che è abituata diciamo no cerca comunque di di risparmiare abbiamo un approccio molto più prudente rispetto a queste cose no ma riferisci certamente sì sì siamo molto conservativi certo siamo molto conservativi volevo sentire proprio volevo sentire proprio andrea la cosa come qual è il tuo riscontro con i tuoi coetanei ma io lo vedo davvero in maniera molto lampante allora diciamo che io ho un'educazione molto tradizionalista quindi anch'io sono stato educato in un'ottica di risparmiare essere conservativo invece io vedo i miei coetani che magari hanno uno stipendio di 1500 euro e al mese spendono magari non 1500 euro ma poco ci manca perché proprio quest'ottica di dover avere accesso a tutto ci porta a voler a voler avere a disposizione tutto in maniera anche semplice e questo al giorno oggi è davvero così vi faccio un esempio molto molto banale le banche da dove guadagnano guadagnano dalle commissioni che possono essere quelle di gestione del nostro conto commissioni derivanti da pagamenti online oppure da dei interessi dai finanziamenti presti mutui oggi come io giovane vivo l'accesso appunto a tutti questi servizi dico perché non posso permettere meglio cos'è che mi domando perché non posso permettermi l'ultimo modello dell'iphone il computer la vacanza la televisione di ultima generazione o tutti questi questi beni tanto posso pagarli a rate l'idea quindi non pago più magari la macchina 20 mila euro subito subito in un solo colpo la pago 200 euro al mese il telefono lo pago 50 euro al mese le vacanze le pago 100 euro al mese quindi mi sembra di aver tutto a portata di mano problema che fra dieci anni quando finisco di pagare il tutto se io tiro le somme le spese le comunque fatte anzi di più perché ci sono comunque le commissioni se si riesce tra l'altro arrivare a pagare tutto poi andrea no perché le cose si accumulano perché ti prendi una cosa a rate un'altra a rate quest'altra rate ancora quest'altra ma le rate dopo si sommano ogni mese no esatto esatto la cosa preoccupante è che non ci accorgiamo perché noi la nostra ottica è ok la macchina non la pago più 20 mila euro la pago 200 euro al mese e questo anche per tutte le cose che ci circondano e quindi arriviamo alla fine ad essere saturi e non potermi ci magari più permettere di acquistare quel prodotto e siamo in difficoltà quindi tante volte abbiamo la fortuna di avere le spalle tra virgolette coperte dai risparmi dei nostri genitori quindi fermo i famosi 94 miliardi di cui parlava angelo di risparmi durante il covid sono quelli che tengono un po le spalle coperte ma in molti casi purtroppo questo non accade e quindi come come reagiamo oggi soldi ci sono poi magari fra cinque sei anni non ci sono cosa facciamo magari abbiamo anche una famiglia le spalle a quel punto ma il mutuo è da continuare le rate sono da continuare a pagare poi esatto esatto e lì bisogna ingegnarci per come farlo allora io devo dire una cosa non è che è sbagliata questa ideologia questo concetto del pagare a rate però deve esserci comunque un piano in che senso se io non pago la macchina a 20 mila euro in un solo colpo ma la voglio pagare a rate ha senso se questi 20 mila euro magari io ci faccio piano finanziario dai prossimi 3 5 10 anni so che con questo grazie a questo piano ogni mese mi rientra qualcosa e questo qualcosa posso utilizzarlo per le rate quindi questo può essere un ottimo modo di di avere accesso a più servizi però qual è il problema prima di tutto che non tutti abbiamo a disposizione di 20 mila euro da poter investire e il secondo problema è che nessuno di noi o quasi nessuno di noi il giorno d'oggi è in grado di farsi un piano finanziario dai prossimi 3 5 anni o meglio non tanto in grado è in un'ottica di volerlo fare non ci pensiamo proprio certo e angelo ti avevo interrotto prima probabilmente eravamo rimasti esatto la grande recessione che appunto nel 2008 e però sempre nel 2008 ad ottobre cosa curiosa nasce il bitcoin no la prima cripto valuta che doveva essere diciamo una moneta universale che poi vabbè non è andata proprio così ecco e quindi negli ultimi anni dicevamo abbiamo assistito a un'offerta di prodotti più diversificata più innovativa oggi c'è la possibilità di accedere a nuovi mercati investire in prodotti nuovi perché le criptovalute il crowdfunding roba advisor piattaforma di trading online e quindi tutto questo ha portato a nuove opportunità di business con questo che cosa si è creato però dentro nella testa degli ultracinquantenni i dubbi perché comunque questo comporta anche dubbino cioè immagino che anche tu ne abbia cioè nel senso io ad esempio ne ho avuti ma dubbi perché perché sicuramente con queste criptovalute volatilità quindi nei mercati digitali la sicurezza informatica quindi quanti attacchi cyber cioè a che raggi veniamo appunto a conoscenza e perché è complesso no cioè nel senso è un qualcosa comprendere questa tecnologia non è scontato non è evidente quindi oltre poi ad alcuni che hanno anche dei limiti per dire banalmente dei limiti fisici quindi mobilità motricità ma anche solo a problemi di vista cioè le app sono scritte in caratteri minuscoli no difficile decifrarci quindi anche la tecnologia non sempre aiutano però oltre i dubbi anche gli ultracinquantenni comunque possono trarre vantaggio dalle dalle nuove tecnologie perché intanto per comodità perché comunque riesci a poter gestire le tue finanze da casa no da qualsiasi luogo tu ti trovi perché comunque con un dispositivo avrai l'accesso alle banche accessi i tuoi conti puoi monitorare tranquillamente le tue transazioni tramite un device un comunque un telefonino è un telefonino o un pc e anche le banche stanno adottando a livello di sicurezza la blockchain anche questo è un vantaggio perché con l'autenticazione a due fattori comunque aumenti dai maggiore protezione contro frodi no accessi non autorizzate i tuoi conti e attacchi raggi come dicevamo prima e poi c'è anche la possibilità di accedere ai servizi di consulenza finanziaria che o l'assistenza clienti che ti danno le banche tramite chat o videocamata no quindi per gli ultracinquantenni rendono più agevole l'interazione con la banca e questi rischi comunque come possiamo diciamo superarli possiamo superarli tramite l'educazione finanziaria e digitale specifica per questa fascia di età no che è necessità essenziale anche perché ci vuole una formazione un supporto l'italia tra l'altro teniamo sempre presente che è l'ultima in classifica per l'educazione finanziaria questo lo sappiamo tutti questo è questo angelo è un dato è molto preoccupante perché essere comunque se non non se non l'ultimo uno degli ultimi del panorama europeo per quanto riguarda l'educazione finanziaria è un dato su cui dobbiamo riflettere perché cosa comporta questa carenza comporta che al giorno d'oggi anche poco come allora chi di noi gestisce in autonomia le nostre finanze nessuno ci affidiamo sempre a terze parti che sia il consulente finanziario della banca delle poste delle assicurazioni quindi vediamo sempre il la gestione dei nostri risparmi come qualcosa di lontano che non ci appartiene qualcosa che magari non mi tocca neanche da vicino però questo questo è sbagliato perché perché comunque qual è l'errore facciamo allora non è sbagliato affidarci a un professionista perché se quello il suo lavoro è normale che io mi affidi comunque quella persona la cosa sbagliata è affidarci totalmente a professionista in che senso molte persone cosa fanno ok io da parte i miei risparmi vado dal consulente finanziario dico guarda investimi però fai tu non voglio saperne è sbagliato no è sbagliatissimo perché la finanza che ci piace o meno è un aspetto fondamentale della nostra vita ogni giorno abbiamo a che fare con l'aspetto finanziario ed essendo così importanti come faccio a delegarlo in toto a una terza parte che magari può essere anche un mio parente può essere un mio migliore amico però è sempre una terza parte la cosa importante è che va benissimo posso fidare professionista del settore ma devo essere anche consapevole di quello che sto facendo quindi gli dico che investi i miei risparmi però devo anche sapere cosa sta facendo devo conoscere devo avere un minimo di cultura finanziaria riguardo agli investimenti che sto facendo questo sicuramente non è qualcosa che non ci dà la scuola io sono laureato in economia ma la scuola mi ha insegnato tutto tranne che la gestione dei soldi mi ha fatto a 27 anni a gestire in autonomia i miei soldi non perché io non sono il più bravo il più bello di turno semplicemente ho avuto consapevolezza diversi anni fa di questa situazione diciamo parecchio parecchio scomoda a livello di consapevolezza finanziaria mi ero reso conto di avere una una capacità finanziaria che era davvero bassa nonostante io fossi laureato in quella materia e quindi allora ho deciso in autonomia di intraprendere un percorso mio personale che mi apporta oggi a raggiungere questo livello di consapevolezza ma non è che ripeto io non sono più intelligenti di tutti quindi ce l'ho fatta come ce l'ho fatta io è importantissimo essere essere conoscito il fatto che tutti possiamo farlo ed è molto importante è facile no perché è un percorso che bisogna lavorarci bisogna farsi il mazzo insomma anche dall'oggi al domani io ho una cultura finanziaria però il primo passo è di capire l'importanza di averla angelo c'è molta diffidenza riguarda anche quello che viene definito la forma di controllo con con il digitale no con le centralizzazioni con il wallet europeo che è stato istituito no dalla dall'unione europea eccetera ecco è giustificato questo 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 timore e è reale e eventualmente se lo è come si può porre diciamo quali sono le soluzioni per evitare questo rischio di centralizzazione allora per quanto riguarda il di digitale il wallet europeo si sono realtà che arriveranno a breve probabilmente in un anno un anno e mezzo non si sa ancora perché appunto bisogna stiamo aspettando anche degli sviluppi insomma di queste regolamentazioni sicuramente saranno sempre più tornando al discorso di cose cioè il controllo sarà sempre maggiore perché ritornando al discorso anche delle delle banche che cosa diventeranno le banche con questo id digitale diventano dei gestori di chiavi private e di wallet no quindi saranno anche delle istituzioni sempre più grosse sempre più invasive e quindi controlleranno sempre di più quindi questo di sicuro le soluzioni comunque certo che ci sono sicuramente metteranno anche riguardo alla tecnologia ci sarà anche della tecnologia sempre più fruibile quindi diciamo user friendly no cioè come dire dall'inglese vuol dire che ti aiutano a utilizzare queste tecnologie agli utenti e sicuro le delle soluzioni in decentralizzato sono quello appunto di limitare proprio il controllo delle tue risorse finanziarie quello che ci sono delle soluzioni assolutamente sì 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 quali sono andrea le soluzioni secondo te allora prima di arrivare alle soluzioni volevo fare un piccolo passo indietro nel senso che volevo andare a spiegare qual è la visione della mia generazione riguardo il futuro molto molto utile sempre perché allora giustamente angelo dice noi abbiamo la consapevolezza di questi cambiamenti abbiamo la consapevolezza delle delle difficoltà che abbiamo ad avere accesso questo mondo digitale per tutte le carenze del caso diciamo che invece in maniera opposta noi giovani stiamo vivendo questi cambiamenti come qualcosa di bellissimo per noi giovani tutto questo cambiamento verso un digitale è qualcosa di molto comodo si parla di open banking open finance cosa vuol dire concetto di banca aperta finanza aperta quindi tutto accessibile in maniera digitale è qualcosa che passami il termine carlo ci sta aggasando tantissimo io ho amici che quando gli parlo di tutte queste novità davvero non sto scherzando mi rispondono a non vediamo ora di di farci impiantare un nel braccio di poter pagare direttamente con quello quindi non solo pagare con il telefono con l'orologio addirittura arrivare alla foglia di pagare con un chip tutto cutaneo la vedi la vedi come la follia tu andrea perché voglio dire sei giovane quindi sai come dicevo prima non hai la memoria storica no no noi angelo abbiamo no la memoria storica io ripeto ancora più di te qualche anno più di te di quando c'era molta più libertà voglio dire no purtroppo quello che ha detto andrea comunque nella realtà che già stata testata e in nord america in canada quindi ci sono già dei chip sottocutanei che hanno fatto come dire delle prove con delle cavie come le così che hanno voluto ovviamente consenzienti perché comunque sotto un compenso e c'è stato per me è assurdo cioè una cosa assoluta fuori dalle mie corde assolutamente ma sembra assurda anche per andrea però perché come dicevo prima io ho raggiunto questo livello di consapevolezza e purtroppo dico pur sottolineo purtroppo al giorno d'oggi la maggior parte dei miei coetanei cotanei non ha quindi cosa tendiamo a fare generalizzo appunto per i ragazzi della mia età tendiamo a vedere solamente l'aspetto semplice del digitale quindi le comodità ci fregano sempre se non si si affrontano tutte le novità con consapevolezza con con il con l'alibi della comodità fregano un po tutti eh guarda dici benissimo perché comunque allora il digitale questo deve essere ben chiaro non è che il digitale è tutto positivo come lo dipingiamo noi noi giovani oppure tutto negativo come molte molte volte si fa c'è una via di mezzo dipende ovviamente dall'utilizzo che ne faccio e dallo scopo per cui utilizzo queste tecnologie faccio un esempio molto molto semplice allora se io vi dico trading penso che tutti la prima cosa che pensate truffa il mondo del trading è per eccellenza il mondo delle truffe ma perché il trading è un lavoro come tutti gli altri ci sono persone che fanno del trading la preoccupazione che poi guadagnino tanto poco quello è un altro discorso è un lavoro perché viene vista come una truffa perché al giorno d'oggi se io vado su tik tok instagram facebook tutti i social network oppure io non so voi ma ricevo tantissime chiamate da persone che mi offrono di entrare nel mondo del trading e questa questo mondo viene sponsorizzato come un guadagno facile quindi avere accesso a un guadagno facile e ricordatevi e questo deriva appunto da una consapevolezza a livello finanziario che nessuno al giorno d'oggi ma in generale ci regala i soldi quindi quando vi prospettano un guadagno facile che sia con il trading che sia con le criptovalute ricordatevi che questo è una truffa a tutti gli effetti questo deve essere molto ma molto importante però come dicevo il trading in sé non è una truffa le criptovalute in sé non sono una truffa dipende che utilizzo ne faccio se io sponsorizzo il trading che mi dà la possibilità di diventare ricco semplicemente acquistando un corso o cliccando qualche pulsante ogni tanto è quella di sicuramente diventa una truffa così e criptovalute io non hai idea carlo quante volte parlo magari con con i miei coetanei gli spiego che lavoro faccio quindi mi dico guarda che mi occupo di criptovalute la prima domanda che mi fanno davvero la primissima a quindi se ti do mille euro mi fa diventare ricco questo è il concetto che hanno loro di criptovalute nessuno che mi chiede a criptovalute spiegami magari più nel dettaglio di cosa si occupa questo mondo spiegami i vantaggi oppure i rischi che si nascondono nessuno vanno dritti al punto come faccio a diventare ricco in maniera facile e questa è davvero la mentalità che c'è al giorno d'oggi non più risparmio prima giustamente angelo diceva c'era la mentalità del risparmio perché guadagnare era faticoso c'era la consapevolezza della fatica che si aveva per guadagnare i soldi e mantenerli oggi invece non mi interessa mantenere i miei soldi anzi voglio guadagnare sempre di più in maniera sempre più facile perché cosa per poter comprare sempre più cose una vita sempre più agevole e agiata e agiata magari di cose su fondamentalmente poi di cose superflue e angelo quali quali sono le possibili soluzioni prego finanziano no dico finché indietro i genitori che finanziano tutto va bene è quando per il momento l'italia ha il vantaggio ma che per certi versi può essere anche controproducente di avere un grande risparmio già acquisito già nel passato e senti angelo che soluzioni ci possono ci possono essere andiamo a vedere intanto sì che cosa è stata intanto la banca prima le soluzioni cioè nel senso a livello ad oggi non abbiamo tanta scelta no se torniamo indietro appunto a fare un passato indietro le banche comunque fino ad oggi è stata l'unica istituzione che mi ha potuto farmi gestire i miei fondi no quindi se faccio un pagamento delle bollette comunque mi serve ancora la banca cioè perché banca utenze comunque dobbiamo ancora pagarlo con la banca o con la posta no e questo la banca è ben consapevole poi uno però mi dice beh ma c'è anche il contante in teoria sì però quanti limiti abbiamo contante quindi anche questa soluzione è limitata perché se vado anche a comprarmi qualcosa su amazon con i contanti non possono quindi e se chiedi ai figli dei miei conoscenti io non ho figli mi dicono tra un pagamento in contanti oppure con il telefono la carta preferisco pagamento digitale quindi telefono o carta quindi diciamo che il digitale non cos'è tutta immondizia o comunque tutto un male no perché comunque come dicevo prima la soluzione è proprio per evitare di subire il controllo delle nostre fiducia finanziaria e c'è il digitale lo è possibile nel mondo in veloce insomma in digitale però se poi tu mi chiedi carlo è priva di rischi questa cosa no come avevo già detto prima perché ci sono vari rischi cioè anche il proprio il comprendere no il funzionamento come dice dicevamo prima di di queste come dire tecnologie però una soluzione c'è e anche più di una e su questo poi andrea appunto andrà volevo che andrea appunto andasse intervenire su questo andrea sì andiamo verso appunto quali sono le possibili soluzioni tenendo presente anche che i nostri ascoltatori se desiderano approfondire e possono anche contattarvi trovate qui sotto nel testo in descrizione proprio la mail per per contattare andrea bertocchi e angelo di palo per approfondimenti per chiarimenti eccetera prego andrea le soluzioni guarda io mi riallaccio quello che ha detto angelo nel senso fino ad oggi una un'alternativa non c'è stata perché che ci piacesse o meno la banca era fondamentale sotto ogni aspetto il mondo digitale che come abbiamo visto tante volte viene viene visto con un occhio di sospettoso di critica diciamo che ci offre in verità oggi un'alternativa e anche valida allora questa alternativa è difficile spiegarla in maniera diciamo non dico semplice però in maniera ristretta soprattutto in una parte finale di un'intervista ovviamente esatto ma perché non è una soluzione come dici vai a leggere quel libro trovi la soluzione oppure scarica quella applicazione studia quel link comunque qualcosa di non dico pratico perché è qualcosa di pratico ma qualcosa di immediato è una soluzione che viene raggiunta tramite un percorso come dicevo all'inizio io sono arrivato a terminare l'università a rendermi conto di determinate problematiche che nel corso poi degli anni ho sempre di più ho sempre di più comunque avuto contezza e sono arrivato ad oggi a dire ok dove siamo diretti da qua i prossimi anni siamo diretti io sono d'accordissimo con angelo quando dice siamo diretti a un controllo totale di ogni aspetto della nostra vita e io sottolineo soprattutto la parte finanziaria quindi avremo un controllo totale delle nostre finanze mi piace assolutamente no non piace a me non piace per la mia famiglia non piace per i miei amici quindi quello che abbiamo fatto noi è studiare un'alternativa una soluzione che possa prima di tutto essere utile per noi per evitare di avere questo controllo di subire questo controllo e poi che possa essere utilizzata da da chiunque da chiunque voglia è qualcosa di semplice assolutamente no allora non è che stiamo parlando di qualcosa di extraterrestre o lontanissimo da noi sta sempre la nostra consapevolezza se io sono in grado di capire che ok la mia educazione finanziaria è minima ma capisco quali siano le problematiche quali siano i pericoli ok inizio un percorso provo a portarlo a termine mi faccio aiutare da un professionista come dicevo prima non pretendo che venga fatto tutto da solo mi faccio aiutare ma lo faccio con consapevolezza e questo è molto ma molto importante quindi secondo me la cosa miglior da fare è una sorta di passami termine fusione o comunque collaborazione fra la mia generazione e quelle precedenti perché io dal lato dei miei 27 anni posso mettere a disposizione le mie conoscenze nell'ambito digitale banalmente noi siamo conosciuti come la generazione del digitale siamo nati col telefono in mano e tante volte ci prendete in giro dicendo che il telefono è l'essenzione della nostra mano ma è verissimo quindi io posso dare una mano a quelle persone che magari sono un po restie all'utilizzo del digitale oppure fanno fatica viceversa le generazioni precedenti come possano essere quella di angelo comunque la tua carlo potete essere davvero molto molto ma molto utili a noi per aprirci gli occhi soprattutto a tutte quelle problematiche che potranno comportare un utilizzo così massivo del mondo digitale perché come dicevo prima andiamo in una direzione di un mondo sempre più digitale ma la cosa preoccupante è che non solo non ce ne accorgiamo ma non ci interessa davvero niente cioè io parlo davvero a nome dei miei coetanei quando io gli parlo di tutte queste problematiche la risposta è ma chi se ne frega tanto è comodo io vado avanti a pagare quello che devo pagare vado avanti a vivere come devo che poi venga controllato meno quello non interessa l'importante è avere accesso ai miei servizi l'importante è andare allo stadio l'importante è uscire a mangiare con gli amici l'importante è andare a giocare a calcetto nessuno che si preoccupa di queste problematiche ma non è qualcosa di lontano da noi è qualcosa di reale sta già sta già sta già avvenendo del controllo non gli interessa niente angelo qual è la qual è la diciamo la l'apporto che puoi dare tu come come professionista in queste in questa fusione con la realtà più giovani con le realtà più giovani beh intanto già forse noi con la nostra età abbiamo capacità più di capire quali possono essere i rischi che si nascondono dietro ad una decinerizzazione noto che per assurdo le persone comunque con cui noi ci interfacciamo comunque clienti sono più curiosi quelli da una certa età in su nel senso che sono più sfidanti non so come dire ci interessa si si mettono più in gioco ecco cioè più più che molto più che i ragazzi che diceva appunto vogliono capire di più intendi dire che noi che noi ce ne freghiamo altamente non non ci interessa di questo mondo dove andremo a parare di quali saranno le importante che sia comodo esatto l'importante è che sia comodo a portata di mano e semplice e veloce ma come abbiamo come abbiamo detto allora e voi mi confermate anche nel mondo digitale quello che è tutto comodo quello che ti propongono dall'alto voglio dire nasconde la fregatura quanto nella nella migliore delle ipotesi il controllo che già quello è già è già una cosa decisiva già nelle nostre vite no noi stiamo bombardati da questo carlo io io utilizzo i social ovviamente ogni giorno utilizzo facebook instagram tik tok e tantissime pubblicità che che recitano tutto portata di un click tutto portata di mano tutto comodo guadagni facili vita bella macchinone yacht villa tutto come se fosse davvero a portata di mano e quindi se veniamo bombardati da tutte queste notizie è anche normale che poi nella nostra testa questo diventi la realtà ci vuole un aiuto esterno questo aiuto può davvero venire da voi certo anche in virtù proprio nell'esperienza che abbiamo vissuto no cioè dell'evoluzione del sistema bancario negli ultimi 30 anni anche questo possiamo dare ovviamente una mano a capire un po come dire customizzare anche le esigenze proprio di di si è incuriosito in questo di questo mondo ecco ecco io ribadisco è molto molto utile credo possa essere molto utile eventualmente per anche consigli per sì una consulenza consigli io sono molto sensibile al tema proprio del controllo che viene dall'alto come si può fare come ci può gestire le proprie come si possono gestire le proprie finanze sfuggendo al controllo che sta venendo avanti che è già iniziato che sarà in ambito economico e finanziario sempre più pressante ricordo appunto qui sotto nel testo in descrizione c'è la mail il recapito per contattare i miei ospiti di oggi conto di avervi se volete anche porre ovviamente domande sono benvenuti anche qui nel testo anzi ci offriranno così spunto nella nella chat spunto anche per prossimi incontri dove magari con domande specifiche potranno rispondere andrea bertocchi angelo dipalo che ringrazio di questo appuntamento ricordo imprenditori professionisti del settore della block chain e del mondo digitale grazie a te carlo e grazie grazie a tutti grazie 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 a tutti voi amici ascoltatori